ok prima abbiamo visto come installare un server vaniglia quindi abbiamo visto che fondamentalmente avevamo uno screen su server in cui ci collegavamo screen-r server e adesso per fare questo che stiamo facendo adesso visto che abbiamo pochissime memorie conviene spegnere il server perché altrimenti non c'è abbastanza memoria quindi qual è l'obiettivo adesso? è quello di creare invece un server che non si evaniglia cioè un server di quelli che noi chiamiamo potenti quelli su cui possiamo metterci dei plugin perché nel server base non c'è la possibilità di inserire delle aggiunte e queste sono le cose più interessanti in realtà quindi ctrl alt d ctrl alt d e facciamo che sotto server sotto questa cartella costruiamo mkdir un build tools lo chiamiamo build tools perché sotto build tools ci costruiremo noi il nostro server perché ce lo costruiremo noi? in realtà se voi andate sotto spigot che è il server di riferimento nei downloads ci sono fondamentalmente c'è un riferimento diretto o a jenkins che sarebbe un posto dove fondamentalmente si possono scaricare tutte le versioni di spigot ma qui può essere un pochino complicato capirsi in realtà qui bisognerebbe andare sotto spigot ma neanche insomma è un pochino un problema quindi il mio suggerimento è di imparare a usare il build tools i build tools in realtà ci impiegano forse un attimino ma sono interessanti vedete che si scarica fondamentalmente un punto jar e queste informazioni in effetti ce le sto dicendo ecco qui dalla maschera da questa finestra build tools linux vedete che ci sono tutte le informazioni c'è scritto come fare le varie versioni e comunque la cosa fondamentale su linux è che bisogna avere git, git e java e noi java l'abbiamo installato infatti noi se scriviamo java-version vediamo che abbiamo java installato e poi c'è bisogno di git git di solito c'è quindi git-version eccolo qua forse con due git-version ce l'abbiamo ok allora come facciamo ad andare avanti ah qui dice tra l'altro se per caso non sia java spiega come fare java eccetera eccetera ma fondamentalmente dà un link e questo link permette di tirarsi giù questo build tools quindi facciamo copia indirizzo link andiamo qua sotto una cartella build tools facciamo vget e ci prendiamo questo file che è piccolino vedete poi bisogna lanciare questo jar in un certo modo oltretutto noi lo vorremmo lanciare per ottenere una versione magari non l'ultima l'ultima cioè se facciamo java-jar e build tools.jar lui automaticamente ci installa l'ultima ma se noi vogliamo la 1.10.2 come nel nostro caso dobbiamo fare in questo modo quindi dobbiamo fare java-jar questa cosa qua ci copiamo questo quindi noi ci allineiamo su questa versione perché è quella che abbiamo fatto a luglio 1.10.2 quindi ci siamo un po' affezionati quindi lanciando così bisogna a questo punto mettersi tranquilli lui lavorerà e lavora circa credo 3 minuti una cosa simile perché si sta costruendo il locale non uno ma tre server in realtà tre immagini di server uno che è il book kit uno il craft book kit e uno che lo spigotto crea tutti e tre per motivi storici tra l'altro il più il più blasunato fra i tre cioè blasunato l'originale fra i tre si chiamava book kit ha avuto una storia complicata perché sembra che a un certo punto l'abbia poi comprato addirittura la la mojang nel tentativo forse di renderlo non dico illegale ma di tenerlo sotto controllo quindi di fatto non si poteva scaricare book kit da nessuna parte e quindi sono nati poi tutti questi server particolari che sono appunto craft book kit e poi spigot e che sono tollerati insomma da mojang perché è proprio grazie alla nascita di questi di questi plug in che in realtà minecraft è diventato uno dei maggiori software diciamo utilizzati nel mondo quasi quindi la community open source o comunque anche gli hacker chiamiamoli si è sbizzarrita molto e ha dato potenza insomma i plug in che sono poi quelli che stiamo vedendo in questo corso si possono utilizzare soltanto utilizzando queste caratteristiche la versione invece di mojang che poi nel frattempo è stata comprata da microsoft non consente tutta questa flessibilità è molto legata diciamo all'implementazione che hanno fatto i programmatori originari e quindi bisogna diciamo assorbirsi su quello che è invece i plug in li possiamo usare tranquillamente con tutto questo sistema vedete che adesso vi sto anche chiacchierando per far passare un po' il tempo perché l'intera operazione di costruzione ha il suo tempo mi sembra che una volta l'avevo fatto sul mio computer a casa ci ha impiegato 10 minuti su un computer remoto ci impiega probabilmente molto di meno e in più tutta questa operazione viene effettuata tre volte perché la prima volta fa bookit vedete che è il server originario poi dopo un po' si farà una variante che si chiama craft bookit e poi per ultimo si fa lo spigot e lo spigot è proprio quello che noi andremo a installare quindi adesso vedete che queste operazioni che vengono fatte non sono banalissime però consentono alla fine di avere il server compilato e funzionante adesso se volendo si potrebbero fornire i punto jar da cui partire per fare il server però a me sembra anche interessante spiegarvi proprio tutta la genesi in modo tale da poter ottenere qualunque versione del vostro server cioè se ad esempio vorreste avere una versione allineata alla 1 credo 8 e la più vecchia non so perché sia si potrebbe eventualmente capire come mai comunque 1.8 credo che sia abbastanza vecchia quindi anche se mi sembra che ho visto in giro qualche mod che funziona con la 1.7 però diciamo che siamo già nell'archeologia quindi sta continuando ad andare se tra l'altro se vogliamo vedere minecraft versions per avere un'idea insomma del ah qui sono tutte e ci sono anche le date quindi 1.6 1.6 7 e qui stiamo parlando del 2011 e quando parliamo della 1.7 quindi diciamo che la 1.8 è comparsa a settembre 2011 quindi direi che se noi siamo compatibili possiamo costruire il server compatibile fino all'1.8 stiamo andando fino a 5 anni indietro nel tempo che direi che è già abbastanza allora qui lui è sempre lì che sta tritando garantisco che dovremmo essere comunque alle ultime fasi stiamo su spigot server e infatti abbiamo finito e abbiamo fatto lo spigot 1.10.2.jar ok se facciamo ls vedete che abbiamo ls-l ls-l h vediamo che abbiamo 21 megabyte di spigot 1.10.2 quindi adesso andiamo di nuovo qua ls-l ecco vediamo soltanto quanto era grande il vanilla server quindi noi abbiamo asterisco punto jar abbiamo visto che quello di base mettiamo meno h quello di base era 9 megabyte invece il spigot che stiamo andando adesso a usare è grosso più del doppio quindi tanto per farvi capire la differenza fra un server vaniglia e un server con gli steroidi come si dice che è questo signore qua ok il bookit server qui non c'è neanche tra l'altro ah forse sarà dentro questo direttore comunque leggermente più piccolo invece spigot vedete che è abbastanza grosso quindi noi cosa facciamo facciamo mkdir spigot ci copiamo dalla build tools spigot 1.102.jar e ce lo infiliamo dentro spigot così cd spigot e qui abbiamo il nostro spigot 1.102.jar ci andiamo a prendere il file di lancio che abbiamo preso server server server.sh ce lo copiamo qua dobbiamo modificare il nome del jar copy e qui facciamo pico server.shell ok e qui andiamo a infilarci il nome spigot 1.102.jar ctrl x y invio e noi abbiamo questo server quindi da questo punto dobbiamo rifare vedete che abbiamo una cartella vuota rifacciamo tutto il giro che abbiamo fatto col vaniglia che funziona altrettanto con lo spigot quindi come il giro si lancia server.sh e questo signore fa tutto quello che abbiamo visto fare anche di là e vedete che chiede l'eula quindi cosa facciamo facciamo pico eula.txt gli mettiamo true vuol dire vero ctrl x y invio no ctrl x y invio e lo rilanciamo ok spigot probabilmente occupa leggermente più memoria dell'altro vedete che tra l'altro dice molte più cose però concettualmente fa lo stesso mestiere quindi abbiamo il server su ok parlo leggermente di più vedete un pochino più sofisticato ok però sembra che dia meno meno informazione di errore comunque questo può essere un'impressione proviamo a collegarci a questo punto con il multiplayer l'indirizzo è sempre lo stesso vedete avos a minecraft server vedete che qui adesso non mi fa collegare perché il server è un 1.10.2 e il client invece 1.11 come si risolve questa cosa basta andare nel nel nostro e poi torniamo e prendiamo la famosa versione 1.10.2 light loader forge che è quella che vi avevo insegnato a installare a luglio con vari video quindi lanciamo a questo punto la versione 1.10.2 con tanto di mappa e di estensione per world edit che adesso qui non c'è world edit ma tra un po' vi spiegherò come installare world edit vedete che adesso parte un pochino più piano perché partono tutte le mod locali qui non c'entra niente il server la mia 1.10.2 l'avevo installata localmente in questo modo bene andiamo a multiplayer e adesso vedete che adesso mi da tutti i verdi perché sono della versione giusta quindi questo qui a WS lo clicco e dovrei vedere che c'è edu3d malala che entra loading terrain e quindi io sono in questo mondo ecco qui bisogna fare attenzione a ricordarsi lo spawn point dove si nasce adesso poi vediamo ragioniamo bene poi nel server nuovo comunque questa è una versione in cui non c'è non c'è nessun plugin quindi se noi chiediamo pl numero di plugins installato pl è 0 list scusate list quindi non ci sono ah ok qui non ci sono comandi perché per poter fare comandi la persona qui deve essere abilitata allora a luglio abbiamo fatto la versione base in cui si poteva fare l'op edu3d malala e nel momento nel momento in cui abbiamo fatto l'op e tra l'altro qui me lo dice io divento improvvisamente anche super user quindi posso fare list e vedere tutte le persone tp e posso teleportarmi insomma posso fare un bel po' di cose l'obiettivo di questo corso che stiamo facendo invece è quello di riuscire a fare in modo tale che le persone possano lavorare senza bisogno di essere oppati quindi deoppiamo tranquillamente e poi quindi vedete che non ho più i diritti di amministrazione tra l'altro state vedendo che posso controllare dalla console tutte le cose list vi posso dare comandi eccetera e comunque fondamentalmente sono nel nel server spigot senza plugin prossimo video vediamo come infilare alcuni plugin